La mia famiglia Nei tempi dell'infanzia ho conosciuto una famiglia, una famiglia bella, era la mia famiglia. E' arrivato il fato e mi ha portata via, uno ad uno, senza stancarsi mai. Ha messo micce, ha innescato bombe, ha allagato il pozzo, ha trascinato gli animi, ha istigato dubbi, ha mentito, è spergiurato. Mi ha guardato negli occhi, mi ha sconvolto, mi ha raffreddata, mi ha immobilizzata. Ma loro, gli angeli di papà, gli angeli della vita, della mia vita, mi hanno raccolto, rialzata. Mi hanno riportata in piedi, rialzata, rialzata e sempre ancora rialzata.